erano alla fine della cena i due amici vedevano il boulevard pieno di folla dai vetri del ristorante sentivano passare quei soffi tepidi che corrono per parigi nelle miti notti d'estate che fanno sollevare il capo dei passanti e infondono una gran voglia di partire per chissà dove lontano in mezzo al verde che fanno sognare fiumi rischiarati dalla luna lucciole usignoli dopo un sospiro profondo Henri Simon uno dei due disse che tristezza invecchio una volta una serata come questa mi avrebbe messo il diavolo in corpo oggi non ho che rimpianti e niente altro la vita corre in fretta era già piuttosto massiccio sui 45 anni quasi calvo Pierre Carnier l'altro era più magro e vivace anche se più anziano gli rispose caro mio io sono invecchiato senza nemmeno accorgermene sono sempre stato un tipo allegro forte in buona salute e così via ma poiché ci guardiamo allo specchio ogni giorno non possiamo accorgersi che è lento continuo e modifica i nostri visi così insensibilmente che non ci rendiamo conto del loro mutamento ed è per questo che noi crepiamo dal dispiacere dopo appena due o tre anni di devastazioni non riusciamo a valutarle perché uno se ne potesse rendere conto bene dovrebbe stare sei mesi senza guardarsi in faccia allora sì che sarebbe un colpo anche le donne come l'impiango povere creatura tutta la loro felicità tutto il loro potere la loro vita sono legati alla bellezza che dura dieci anni appena io dunque sono divenuto vecchio senza accorgermene ero vicino ai 50 e mi credevo ancora un giovanotto non avevo guai fisici e così tiravo avanti felice e contento la rivelazione della mia decadenza l'ho avuta in modo semplice e terribile sono stato male per sei mesi poi poi mi sono rassegnato come ogni uomo mi sono innamorato parecchie volte ma una è stata molto importante l'avevo incontrata al mare ai tretà dodici anni fa poco dopo la fine della guerra che c'è di più grazioso di quella spiaggia al mattino nell'ora del bagno è piccola a ferro di cavallo chiusa da alte scogliere bianche forate da quelle curiose aperture che chiamano le porte una enorme con la gigantesca zampa conficcata nel mare e quell'altra di fronte accoccolata come una ciambella la folla delle donne si raduna e si accalca sulla stretta lingua di ciottoli coprendola con un meraviglioso giardino di abiti chiari nella cornice delle solenne rocce il sole cade a picco sulla riva sugli ombrelli di tutti i colori sul mare di un azzurro che tende al verde tutto è gaio piacevole tutto accarezza lo sguardo uno può sedersi vicino alla riva e mettersi a osservare le signore che fanno il bagno scendono a volte in accappatoi di spugna che lasciano scivolare a terra con un grazioso movimento appena sono arrivate alla frangia spumosa delle prime onde poi entrano in acqua a rapidi passettini arrestandosi qualche volta per un incantevole brivido di freddo per un breve ansimare poche reggono alla prova del bagno è lì che vengono tutte giudicate dai polpacci al seno specialmente quando escono dal bagno vengono fuori i difetti men che l'acqua di mare sia di grande aiuto alle carni flosce la prima volta che vedi così quella giovane donna rimasi ammaliato conquistato era solida non le mancava proprio nulla ecco ci sono dei volti che ci affascinano di colpo entrano dentro di noi subito ti sembra così di aver trovato la donna che eravamo destinati ad amare ecco ebbi proprio quella sensazione quel brivido premonitore mi feci presentare e in poco tempo ero innamoratissimo di lei come non lo ero mai stato un disastro diventare schiavo di una donna in quel modo insieme è delizioso e terribile è un supplizio e nello stesso tempo una felicità inimmaginabile lo sguardo, il sorriso, i teneri capelli sulla nuca mossi dal vento i minimi tatti del volto ogni sua espressione mi rapivano, mi turbavano mi mandavano in estasi mi affascinava tutta la sua persona coi gesti, con gli atteggiamenti e anche con quel che portava indosso mi emozionavo nel vedere la sua veletta appoggiata su un mobile o i guanti buttati su una poltrona gli abiti poi erano per me i più belli che avessi veduto e nessuno aveva capelli come i suoi era sposata il marito arrivava il sabato e ripartiva il lunedì ma di lui non mi curavo non so il perché ma non ero neppure geloso mai una persona aveva contato così poco nella mia vita non attirava minimamente la mia attenzione invece come amavo lei e quant'era bella e piena di grazia giovanile era la giovinezza, la freschezza e l'eleganza in persona mai come allora avevo avuto la sensazione che una donna può essere una creatura bella raffinata, delicata quintessenza del fascino e della grazia mai sino ad allora mi ero reso conto di quale seducente bellezza esista nella curva di una guancia nel movimento di un labbro nelle pieghe rotonde di un piccolo orecchio nella forma di quello stupido organo che chiamiamo naso durò tre mesi poi partì per l'America col cuore infranto dalla disperazione ma il pensiero di lei rimase dentro di me in continuazione sempre trionfante da lontano ero posseduto da lei come lo ero stato da vicino gli anni passarono ma io non la dimenticavo la sua immagine incantevole l'avevo sempre davanti agli occhi e nel cuore il mio amore restava fedele un amore tranquillo l'amaro ricordo di quanto di più bello di più affascinante avessi incontrato nella mia esistenza dodici anni sono così pochi nella vita di un uomo nemmeno ci accorgiamo che sono passati scivolano uno dopo l'altro ora lenti ora veloci calmi e rapidi nessuno di essi è lunghissimo ma finisce sempre in fretta si sommano tanto presto lasciano una traccia così esigua dietro di loro svaniscono così completamente che se ci rivolgiamo indietro per considerare il tempo che è passato non vediamo più niente e non riusciamo a capire come abbiamo fatto a diventare vecchi mi pareva che appena qualche mese mi separasse da quella bella estate sulla spiaggia di Etretà la primavera scorsa stavo andando in casa di alcuni amici a Maison Lafitte quando il treno stava per partire salì nel mio scompartimento una signora grassa insieme a quattro figlie detti appena un'occhiata a quella mamma chioccia ampia e rotonda con un faccione da luna piena sormontato da un cappellino troppo infiochettato poiché aveva corso le era venuto l'affanno le bambine cominciarono a chiacchierare aprì il giornale e mi misi a leggere subito dopo Asniere all'improvviso la mia vicina mi disse vi chiedo scusa ma voi non siete il signor Carnier? sì signora scoppiò in una risata allegra e serena con appena una venatura di malinconia voi non mi riconoscete vero? visitai mi sembrava di aver veduto quella faccia in qualche posto ma dove? quando? risposi sì e no vi conosco sicuramente ma non mi viene in mente il nome lei arrossì un poco Jules Lefebvre non ho mai ricevuto un colpo simile mi parve in un attimo che per me fosse finito tutto sentivo solamente che davanti ai miei occhi era stato strappato un velo e che ero sul punto di scoprire cose orrende e strazianti era lei era lei quella donnona qualunque lei e da quando non c'eravamo più visti aveva scodellato quelle quattro figliuole quelle creature mi stupivano quanto la loro madre erano nate da lei le aveva cresciute avevano già un posto nella vita e invece lei si era annullata lei quella meraviglia di grazia civettuola di finezza mi sembrava di averla veduta ieri e la ritrovavo in quelle condizioni era mai possibile il cuore si stringeva dolorosamente ma volevo anche ribellarmi contro la natura stessa indignato irragionevolmente contro quell'infame e tremenda opera di distruzione la guardavo costernato mi prese una mano e mi vennero le lacrime agli occhi piangevo la sua giovinezza e la sua morte e infatti quella grassa signora io non la conoscevo anche lei commossa sussurrò a voce bassa sono molto cambiata non è vero? che volete farsi? tutto passa adesso sono una madre di famiglia una brava madre di famiglia e basta tutto il resto via pensavo che se ci fossimo incontrati voi non mi avreste riconosciuto però anche voi siete cambiato ci ho messo un po' di tempo prima di essere sicura di non sbagliare avete tutti i capelli bianchi da pensate sono passati dodici anni la mia maggiore ne ha già dieci guardai la bambina e trovai in lei qualcosa del fascino che aveva in passato la madre ma c'era anche qualcos'altro qualcosa di incerto di appena abbozzato di prossimo a sbocciare e la vita mi sembrò rapida come un treno che passa eravamo a maison la fitte baciai la mano della vecchia amica non ero stato capace di dire altro che frasi insulse ero troppo sconvolto per parlare quella sera a casa mia solo solo mi osservai a lungo nello specchio e alla fine mi ricordai di com'ero rividi nel pensiero i miei baffi e i miei capelli neri la fisionomia giovanile del mio volto ero vecchio addio